Finita è la notte e la luna si scioglie lenta nel sereno tramontano i canali è così vivo settembre in questa terra di pianura i prati sono verdi come nelle valli del sud a primavera ho lasciato i compagni ho nascosto il cuore dentro le vecchie mura per stare solo a ricordarti come sei più lontana della luna ora che sale il giorno e sulle pietre batte il piede dei cavalli e sulle pietre batte il piede dei cavalli e sulle pietre batte il piede dei cavalli Nacqui a Modica un 20 agosto era il primo anno del nuovo secolo e mi restò addosso l'illusione di essere sempre come al principio di qualcosa ma sono gli inganni delle date nel novecento in cui vissi l'uomo si dimostrò essere ancora quello della pietra e della fionza per gioco dichiarai più volte che la mia città d'origine fosse Siracusa ma solo per accreditarmi un'origine più favolosa e deliberata i poeti lo fanno spesso Nacque a Modica dunque figlio di un ferroviere che fu ferroviere dall'età di sette anni per una paga di una lira al giorno e infine divenne capo stazione di quelli con la divisa di un'altra epoca Da subito la vita fu per me un pendolare tra case, cantoniere, banchine una fuga di binari unici e di scambi isolati brocca lumera, gela, acqua viva, travia grigi scali di treni lenti che portavano mandore arance alla foce di fiumi pieni di gazze, di sale d'eucaliptus Ci sono tante Sicilie in una sola isola troppe Uno scrittore che venne dopo di me Don Gesualdo Bufalino provò a catalogarle la Sicilia verde del Carrubo quella bianca delle saline quella gialla dello zolfo quella bionda del miele quella purpuria della lava Ne potrei aggiungere molte altre una Sicilia taciturna e una commediante una orgogliosa e l'altra mite una Sicilia che alleva il sospetto come un animale domestico e una credulona di ogni voce crebbi con questi contrasti ma era vero che con la Grecia fossi imparentato mia nonna era figlia di profughi di Patrasso e si chiamava Rosa Papandrea il latino poi lo avevo inciso nel cognome d'ogni dolore son fatto primo nato quasi modo fui condannato alla classicità senza volerlo ma finché rimasi in Sicilia l'accento del mio nome cadde sulla penultima o quasi modo quasi a modo scherzavo quando me ne andai nel continente qualche anno dopo anche quell'accento lo gettai nello stretto insieme a tante altre cose e me ne misi un altro del resto la nascita di un poeta è sempre un atto di disordine mi piace pensare di aver tenuto per tutta la mia vita un rapporto tenace con la mia Sicilia eppure me ne andai grazie a questo girovagare ho potuto compiere incontri fondamentali a Firenze tramite mio cognato Elio Vittorini conobbi Eugenio Montale in Liguria incontrai Angelo Barile Adriano Grande e Carlo Bo per non parlare di Milano dove feci amicizia con pittori come Fontana, Birolli ma soprattutto incontrai Cesare Zavattini fu grazie a lui che venne assunto alla rivista Tempo dove iniziai scrivendo le didascalie alle foto che arrivavano dal fronte di certo non nego l'importanza di tutti questi incroci da figlio di ferroviere so bene quanto siano importanti gli snodi e gli scambi per mettere la vita sul binario giusto ma prima che lasciassi l'isola nel tempo lontano della mia infanzia mio padre lo mandarono a Messina era la fine del 1908 e io avevo solo sette anni a Messina arrivamo pochi giorni dopo il terremoto ho sempre pensato che a volte nei libri puoi entrarci come si entra in un paese morto ci vedi i calcinacci gli uccelli che si posano le finestre scheletrite ma se hai pazienza l'occhio si abitua e ricompone una forma da quel cumulo di polvere e pietrisco riedifica le case il tracciato dei vicoli il gioco delle ombre basta una padella di rame la spagliera di un letto un libro squadernato è terribilmente facile e illusorio ma alla resa dei conti ugualmente inutile la mattina del 28 dicembre era un lunedì poco prima dell'alba un muro d'acqua di detriti e di vento travolse la città nel sonno insieme alla maggior parte della popolazione fu come se al centro dello stretto fosse scoppiata una bomba atomica di una potenza 50.000 volte superiore a quella di Hiroshima il numero delle vittime fu incalcolabile si dice tra 100 e 120.000 ogni famiglia sparì senza lasciare traccia insieme ai registri anagrafici agli archivi delle chiese alle lapide dei cimiteri di almeno tre generazioni fu abolito per intero il tempo sia quello che restava loro da vivere sia quello che avevano vissuto raggiungere Messina nei giorni dopo il terremoto fu come scendere in vita nel regno delle ombre non si può restituire in alcun modo il silenzio di una città estinta non era rimasto in piedi niente nessun edificio nessun respiro non c'erano lacrime per il semplice fatto che non c'erano più guance su cui potessero scorrere la stazione era distrutta come il resto per mesi abitamo in un carro merci fermo su un binario morto era spettrale camminare per quelle strade come infrangere un sacrario la vita abbandonata aveva qualcosa di indecente come i nostri passi ogni tanto una lucertola scantonava dietro una pietra un uccello volava via da una credenza sospesa nel vuoto un cane lontano abbaiava ricordo la desolazione che si specchiava nei visi delle persone da allora ho sempre pensato che qualsiasi verso avessi potuto scrivere si sarebbe spogliato allo stesso modo ma anche che intorno alla mia poesia come nelle vie di Messina in quei giorni sarebbe rimasto sempre qualche animale seduto davanti a una croce di confine a trattenere un filo di senso e di fiato ti trovo nei felici approdi della notte consorte ora di sepolta quasi tepore d'una nuova gioia grazie amara del viver senza foce vergini strade oscillano fresche di fiumi in sonno e ancora sono il prodigo che ascolta dal silenzio il suo nome quando chiamano i morti ed è morte uno spazio nel cuore non sentite anche voi il profumo di questi limoni mi sono sempre piaciuti sono degli alberi meravigliosi accolgono il vento le mani è qui che i miei piedi vagheranno per sempre tra giunchi pesanti di lumache nessun altro luogo per me ha una voce così lenta ma c'è un proverbio da noi che suona così chi nesce arrinesce chi esce riesce se vuoi combinare qualcosa nella vita devi andarti a cercare il tuo destino lontano e questo vale anche per la letteratura mio padre voleva che io mi sistemassi e in qualche modo lo accontentai anche se presi una strada tortuosa dissi a tutti che mi sarei iscritto a ingegneria e me ne andai a Roma in realtà mi ero iscritto ad agraria ma fa poca differenza perché non sostenni nemmeno un esame la poesia il verso erano la mia vita ma me ne andai di notte con un mantello corto e alcuni versi in tasca e sopravvivere a Roma non fu facile per questo quando mi sembrava di non farcela più scrissi a Bicedonetti mi raggiunse e fu di gran supporto in quegli anni difficili vivemmo insieme a lungo prima di essere quasi costretto a sposarla il mio capufficio di Reggio Calabria non amava le convivenze approdai infine a Milano ma solo dopo un soggiorno forzato in Sardegna per via della mia passione inesauribile per le donne fu bice a chiedere il trasferimento sperando che questo mi impedisse di amare la sua migliore amica Amelia Spezialetti ma le donne erano una mia dolce debolezza e dalla loro mutevole varia bellezza fui sempre ossessionato le seguivo le amavo le abbandonavo Amelia mi diede una figlia orietta nata e cresciuta in casa di bice mia legittima moglie che nonostante tutto fu con me fino alla sua morte insomma avrete capito furono molti i volti che mi rubarono il cuore ma dopo bice solo Maria Cumani fu custode del mio focolare e con lei ebbe Alessandro ma tra tutti questi nomi in tutti questi luoghi ovunque mi ritrovassi finivo sempre per rinchiudermi in una camera a scrivere e a tradurre ecco la regina Meb è certo venuta da te Meb levatrice delle fate appare non più grande di un'agata che splende sull'indice a un priore in volo la tira una muta di invisibili farfalle sul naso di chi dorme le ruote del cocchio girano con raggi di lunghe zampe di ragno sono le redini di lieve ragnatela il mantice d'ali di cavallette i finimenti d'umi di raggi di luna un osso di grillo serve per la frusta la sferza è una membrana e cocchiere è un moscerino in livrea grigia grande meno della metà del verme che gonfia il dito alle fanciulle pigre tradurre è sempre stata la mia passione anche questo era un lavoro mi piaceva e un poco mi dava da vivere ma soprattutto mi insegnò il mestiere i miei primi lettori sono stati i poeti antichi se scrivevo qualche verso correvo subito da Catullo o da Saffo a farli risentire da loro ho appreso il culto della sensualità dell'ironia e tutte le possibilità che la poesia può offrire non potete immaginare quanto sia utile ricopiare sillaba dopo sillaba una vecchia poesia e provare a tradurla le parole hanno la mobilità di una marionetta un'ossatura invisibile di legno e di fil di ferro come quella che sostiene i pupi siciliani è tutto un affare di chiodi e di cordicelle vi sono parole che si possono appendere una bacchetta e altre che sembrano arabeschi alcune lucide altre da lucidare parole di rame e di acciaio di noce di faggio parole di stoffa e di piume verdi parole a mezzaluna e a pinna di martello parole disarmate e parole per parare i colpi per inginocchiarsi e per tremare di rabbia parole di pelle d'asina parole traforate parole impazienti parole nascoste dietro una visiera o chiuse in una conchiglia quando nel 1940 apparvero i miei lirici greci fu subito scandalo in tutte le accademie i giornali mi attaccarono alla polemica fu persistente e implacabile ma per me tradurre quei classici era stato come tornare a casa nei loro frammenti avevo ritrovato la mia isola e ora so che tradurre era principalmente un atto di nostalgia viviamo mia lesbia e amiamo e ogni mormorio perfido dei vecchi valga per noi la più vile moneta il giorno può morire e poi risorgere ma quando muore il nostro breve giorno una notte infinita dormiremo tu dammi mille baci e quindi cento poi dammene altri mille e quindi cento quindi mille continui e quindi cento e quando poi saranno mille e mille nasconderemo il loro vero numero che non getti il malocchio l'invidioso per un numero di baci così alto poi a 40 anni istituirono e mi assegnarono per chiara fama la cattedra di letteratura italiana al conservatorio giuseppe verdi di milano non avrei potuto avere una destinazione più congeniale sin dalle prime poesie infatti non avevo cercato che di riportare la parola nel dominio della musica non del suono dove l'aveva relegata ad annunzio lui le sceglieva per accostamenti puramente fonetici i suoi aggettivi soddisfano un'esigenza soltanto sonora non musicale io inseguivo invece la musicalità come d'annunzio volevo diventare uno stregone dello stile un mago ma non separare la logica dall'immaginazione né le leggia dal dramma in quel conservatorio ci rimasi fino alla morte in tutti questi anni hanno detto di me molte cose che ero refrattario sordo distratto e inamidato come poeta niente di più che un neoclassico con accenti di insopportabile profetismo e come traduttore appena un autodidatta improvvisato incompetente eretico a ripensarci ora mi viene da ridere io che sarei stato un poeta l'ho capito a 14 anni osservando il mare dalla spiaggia di Rocca Lumera quanto sono ridicole le contese umane è vero ho vissuto anche di sdegni sono stato polemico irritabile eppure mi dispiace che nessuno abbia riconosciuto l'ironia mite che mia madre mi aveva messo sulle labbra non ho mai coltivato l'odio l'ho visto infestare le mappe del mondo fino ad averne nausea per tutto il dolore a cui ho assistito il nostro tempo è stato furia e sangue e la guerra ha svezzato la mia voce quando l'ho ritrovata quando anche quest'altro maremoto finalmente passò pure la mia voce era cambiata qualche anno più tardi andai in Unione Sovietica dovevo presenziare un incontro tra scrittori italiani e scrittori russi ma ebbe un infarto a pensarci bene non mi sarebbe dispiaciuto spegnermi nella terra di Tolstoi e di tanti altri poeti anche la Russia era un'isola un'isola immensa inafferrabile come la Sicilia mi ricoverarono all'ospedale Botkin di Mosca e vi restai a lungo un'infermiera si prese cura di me mostrandomi quanto umano sia l'esercizio del conforto si chiamava Varvara Aleksandrovna girava per le stanze del Botkin con le scarpette di feltro agli occhi frettolosi infermiera della sorte scotta la tua mano notturna Varvara Aleksandrovna sono le dita di mia madre che stringono per lasciare lunga pace sotto la violenza il 1959 lo ricordo bene quando mi assegnarono il premio Nobel che mi causò altri nemici e feroci detrattori ma io chiusi le orecchie per un po' e decisi di gotermi questo insperato e universale riconoscimento che riempiva di gioia i miei ultimi anni gli accademici di Stoccolma avevano scritto nella motivazione che assegnavano il Nobel a Salvatore Quasimodo per i suoi componimenti che con classico fuoco esprimono il tragico sentimento di vita del nostro tempo l'espressione classico fuoco mi inorgoglì solitamente ciò che è classico è morto è freddo lontano della cenere spenta i miei versi invece crepitavano ancora bruciavano quanto il fuoco e ne fui felice mi congedo come si faceva una volta con una lettera la scrissi per mia madre e pensate che la lesse anche la mia anziana nonna la poesia le piacque talmente che prese carta e penna e mi rispose con grande spirito esordendo con mio caro Totò mi invitava a comporne una anche per lei ma con mio comodo aggiunse quando ne avessi avuto il tempo in fondo aveva solo cento anni mater dolcissima ora scendono le nebbie il naviglio urta confusamente sulle dighe gli alberi si confiano d'acqua bruciano di neve non sono triste nel nord non sono in pace con me ma non aspetto perdono da nessuno molti mi devono lacrime da uomo uomo so che non stai bene e vivi come tutte le madri dei poeti povera e giusta nella misura d'amore per i figli lontani oggi sono io che ti scrivo finalmente dirai due parole di quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto alcuni versi in tasca povero così pronto di cuore lo uccideranno un giorno in qualche luogo certo ricordo fu da quel grigio scalo di treni lenti che portavano mandorle e arancia alla foce dell'imera il fiume pieno di gazze di sale d'eucaliptus ma ora ti ringrazio questo voglio dell'ironia che hai messo sul mio labbro mite come la tua quel sorriso mi ha salvato da pianti e da dolori e non importa se ora ho qualche lacrima per te per tutti quelli che come te aspettano e non sanno che cosa gentile morte non toccare l'orologio in cucina che batte sopra il muro tutta la mia infanzia è passata sullo smalto del suo quadrante su quei fiori dipinti non toccare le mani il cuore dei vecchi ma forse qualcuno risponde morte morte di pietà morte di pudore addio cara addio mia dolcissima madre di pietà Grazie a tutti.